Leone armati stiamo marcando, siamo la fossa dei leoni, dei leoni, leone, 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 siamo la fossa dei leoni, sangue, galezza, fossa dei leoni, milan, milan, allora ragazzi, allora ragazzi, perché ho voluto cominciare con questo urlo, con questo urlo di guerra, della fossa dei leoni, delle brigate rossonere, perché ho voluto cominciare con questo urlo, perché questa ragazzi è una chiamata alle armi, è un video solo ed esclusivamente per i miei fratelli rossoneri, perché dobbiamo difendere l'onore del Milan, che sui social, sulla carta stampata, dai vertici arbitrali, da tifosi su Youtube, su tutti i social che potete conoscere, e viene mancato di rispetto spesso e volentieri e questo video sarà qui per difendere e per dire la verità su quello che è il Milan e su ciò che ha sette veo, cioè noda rispetto Milan. Lo volete capire? Lo volete capire? Allora ragazzi, questo come ho titolato è un cadeau, è un piccolo cadeau per voi tifosi rossoneri, perché ragazzi, questo è lo stemma che ha sempre comandato in Italia, in Europa e nel mondo, e che vi piaccia o no? O che vi piaccia o no? Siamo stati per anni il club più titolato al mondo e adesso siamo il secondo club più titolato al mondo, quindi quando parlate di Milan? Gargarism, colluttori, 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 scatete, sciacquetevi la voce, hai capito? Bogni? Sciacquetevi la voce, tutto, tutto va, allora ragazzi, notiziona, notizia, notizia, notizie, belle notizie ragazzi, Stanno tornando i nostri ragazzi, arrivano i nostri ragazzi, positività o negatività dai tamponi e risultato che Teo Hernandez era un falso positivo, quindi praticamente ragazzi ha saltato l'ultima partita ad Acce, perché c'è stato questo falso positivo, Quindi adesso Teo Hernandez torna a disposizione, così come torna a disposizione Ante Rebic, Ante Rebic e anche Radekrunic, quindi ragazzi un pochino alla volta, un pochino alla volta iniziamo a recuperare qualcuno, Lo iniziamo a recuperare qualcuno e ci avevo creduto che amassi sempre da che passate, sette, otto, nove cristiani alla volta, la vita è brutta questa situazione, va a fornece, va a fornece, e poi potrei mangiare pure a veo, e non è detto, non è che te lo voglio tirare, però sai com'è, può anche succedere, Purtroppo è così ragazzi, adesso fammi abbassare un po' i toni, così, quindi ragazzi, cioè può anche succedere questa cosa qua, voi questa cosa la dovete capire, non è che le cose devono andare sempre male, solo ed esclusivamente al sottoscritto, ciao buonasera, ma possono anche andare bene al sottoscritto e male a qualcun altro, Allora ragazzi, visto che ha parecchie persone, dà fastidio quando noi parliamo delle assenze, oh, siamo delle assenze, Paule, oh, avete stancato con le assenze, e no, ma vi t'assendei, ma vi t'assendei, eccetta Pinz Teo, che tu sei capace di giocare come facciamo noi, senza sette, otto giocatori, E gioca senza sette, otto giocatori, guarda che te le tiro, eh, guarda che se succede che giochi senza sette, otto giocatori, con il tuo principe là davanti, che viene a mancare, sia che fosse bianco-nero, sia che fosse nero-azzurro, guarda che le cose cambiano, eh, guarda che le cose cambiano, Abbiamo fatto una partita senza tre o quattro giocatori, contro l'Inter, c'è niente, scaffo un bacio che non si capisce, avete scelto due volte, una volta a Benevento, una volta a Crotone, quindi due grandissime squadre, due grandissime trasferte, avete pareggiato a Crotone e a Benevento, sai perché? Perché non c'era Cristiano Ronaldo, ok? Quindi quando a me manca per dieci giornate Zlatan Ibrahimović, ma adesso andè, perché lo devo dire, è fantastico per cheat, va bene? Poi, se invece vogliamo parlare degli amici interisti, io ricordo agli amici interisti che avete perso la partita a Genova, dove, guarda caso, mancava Lukaku, mancava Lukaku, e poi tra l'altro è anche entrato dalla panchina, se non erro, quindi non è che non stava proprio, eppure avete perso, avete cegnetto a Genova, se non ricordo male, se non ricordo male, è mancato anche a Bergamo, anche lì se non erro, era entrato dopo, o mi sbaglio, anche lì avete pareggiato, non avete vinto, solo una volta avete vinto senza Lukaku, contro il Sassuolo, quindi anche questo vi fa pensare, e voi che cercate di, che parlate con tutta questa prosopopea, con tutta questa, sinceramente, tutta questa sorta di ball dance, non la capisco, ma voi lo sapete che noi siamo, che voi siete inferiori a noi, io so che noi siamo inferiori a voi, ma prima di tutto voglio dire un'acqua, voglio sottolineare un'acqua, ma io, io, tifoso del Milan, AC Milan di Milano, da sempre la prima squadra di Milano, dal 1899 la prima squadra di Milano, eccetera eccetera, secondo club più titolato al mondo, io, mi assente adesso, dagli inderisti in generale, voi sapete che siete inferiori, a voi non vi considero per lo scudetto, io a voi, non sento a voi, ma io faccio la cosa sulla Juve, io a voi, io già lo so che voi prima o poi cadete di qua di là, io già lo so che voi di qua, io già lo so di là, io sono il Milan, te uccissi, di che cosa sei, di che squadra sei, tu dell'Inter sei, proprio tu dell'Inter sei, come ti chiami, Inter Milano o FC Internazionale, o Ambrosiana, come ti metti, come ti metti, se ti metti tre volte, come ti metti, come ti metti, come ti metti, come ti metti, beh, io mi devo sentire inferiore all'Inter, cioè io mi devo sorbire, io mi devo sorbire, in una sorta di cazzata, da dove, da dove, eccetera eccetera, da interisti che si credono superiori, eccetera, ma in base, cioè questa tua baldanza, questa vostra baldanza, che si suppone, in base a cosa, cioè, su che cosa è fondata, su che base è fondata, ma facete capire, cioè, siete ancora del parere che il Milan è inferiore, all'Inter, alla Juve, eccetera eccetera, ok, credetelo, a noi va anche bene, ma io voglio capire una cosa, ma lo sapete che tutto il 2020, 2020, sono 38 partite, capo, lo sapete che siete arrivati sotto al Milan, in tutto l'anno solare, il Milan ha fatto più pontos di tutti, della Juve, dell'Inter, della Roma, della Lazio, lo sapete o non lo sapete, se non lo sapete, ma voi dì chi è, va bene, ve l'ho detto. Quindi io e tutta questa baldanza, in base a cosa, agli ultimi anni dell'Inter rispetto a quelli del Milan, e fammi capire ancora mi sto perdendo io qualcosa cioè voi negli ultimi diciamo dieci anni facciamo dieci anni che cazzo avete visto questo tipo di discorso lo posso magari anche accettare da uno juventino vanno da nove scudetti consecutivi si sentono forti è anche giusto così avranno le loro ragioni è giusto così ma io non basta come viene la storica adesso voi siete di qua noi di là ma voi non sapete che siete in vero ma diciamo in vero di cosa ma voi fate esempio parlare parlo che della senza una piccola che io scuca te senza Lukaku senza Barella senza De Vrai senza Timi scuca 4-5 partiti 6-7 partiti senza 5 sacristiani e vediamo c'è Rousseff voglio vedere che cosa sapete fare vi ha tralapito perché voglio vedere c'è sapete fare c'è mangi le cinghese cristiani questa rossa lunga che voi dite di avere questa rossa lunga profonda l'Inter c'è una rossa superiore c'è una rossa superiore mi dite su che cosa si basta questa rossa superiore su giocatori che non giocano mai che non vengono utilizzati ecco da che cosa voi pensate di avere voi avevate Nengolani fino a qualche giornata fa e quello giustamente stare in panchina avere Nengolani in panchina non è una cosa da tutti è vero non hanno fatto per 5 minuti 1 minute 1 minute andrete a coda a Cagliari l'altro chi è? Ericsson 7 milioni e mezzo all'anno per starsene in panchina e fare 5 minuti se gli va bene a partita anche che che solterapi che solterapi dicevo anche Ericsson averlo in panchina è un losso si ma non lo utilizzi quindi questa è la panchina lunga in effetti stanno facendo in modo stanno facendo di tutto per venderlo perché chi cazzo lo deve pagare 7 milioni e mezzo chi non riesce a pagare il bollito lo sta pindi e quindi è chiaro che devi andare via anche tu quindi la russa lunghissima che diventa sempre più corta poi anche quello sta facendo benissimo Perisic è grandissima questa russa è lunga proprio sta russa siete inferiori ma noi in effetti siamo inferiori siamo gliela lasciamo io vi ho sapato a causa che parlano in questa maniera là davanti là davanti che avete Lautaro Martinez e Lukaku grandissima coppia per carità mi dite se per caso manca uno di quelli chi gioca Sanchez Sanchez oppure Pinamonti Sanchez Pinamonti è profonda la russa è molto di chi in realtà a causa Zlatan Ibrahimovic che ha mancato dieci giornate dieci giornate c'è manca Lukaku dieci giornate non arrivate manca il sesto post arrivate manca il sesto post fermi il canale lo conoscete se qualcosa succede e non è così mi venite a scrivere sotto non ci sono problemi va bene se Zlatan Ibrahimovic non c'è non è che deve essere sembra che poi non c'è neanche Rebic che ha avuto il covid oppure si è rotto il braccio oppure non è che deve essere che Leao ha avuto il covid oppure poi si è fatto male anche lui oppure sai com'è adesso ci abbiamo Rebic che sta rientrando ci abbiamo Leao ci abbiamo Ibrahimovic che è rientrato ci abbiamo Super Mario Mandzukic che è appena arrivato lo sai ma tu di chi poi ci abbiamo la cancia la Noglu lì davanti che può fare tranquillamente quelle fasi sia a sinistra che al centro ci abbiamo Brahim Diaz ci abbiamo Aughe ci abbiamo Castiglieco ci abbiamo Selmeckers la rosa profonda ce l'abbiamo anche noi anzi direi ce l'abbiamo solo noi magari la Juve ma non è un veu non è un veu non è un veu oh siamo un nanz andiamo avanti quando abbiamo giocato con la Juve quando abbiamo giocato con la Juve diciamo ma noi abbiamo vinto con la Juve la grande abbiamo vinto con la Juve voi che avete fatto con la Juve Voto tu con la Juve hai giocato al gran completo mentre alla Juve mancavano 4 giocatori questa è la cosa che io vado dicendo agli altri guardate che cosa è successo quando vi sono mancati 4 giocatori non è la stessa cosa ragazzi se ti mancano 3 o 4 4 o 5 6 o 7 titolari non è la stessa cosa quindi voi avete vinto con la Juve nella giornata in cui noi dovevamo affrontare la Juve avevamo non so quante assenze già non so quante assenze ovviamente tutte fondamentali incredibilmente importanti è inutile che ve le sto a raccontare perché voi le sapete meglio di me in quella stessa giornata abbiamo saputo della positività sia di Kronic che di di Rebic quindi praticamente noi abbiamo dovuto affrontare una partita durante la giornata abbiamo cambiato completamente il modo di giocare abbiamo ci siamo inventati Calabria centrocamp Calabria centrocamp perché mancavano 3 centrocampisti su 4 3 su 4 ne mancavano lo sapete in attacco ne mancavano mancava come si chiama Ednans mancava Selmekers mancava Ibrahimovic mancava Rebic all'ultimo momento lo sapete questo fa sicuro lo sapete lo sapete meglio di me e allora non si è tovano adesso che noi abbiamo vinto e noi abbiamo perso noi abbiamo perso perché abbiamo affrontato una Juve diciamo che stava molto meglio di noi perché a noi non mancava mezza squadra ne picca di chi e mi assente invece a te che tu stavi al completo e alla Juve mancavano i giocatori e hai vinto la partita voglio vedere al contrario che cosa succede siamo bunta e tutti bene devono stare ogni volta e tutti bene devono stare ogni volta soltanto a noi si devono fare male e staremo a vedere che cosa succede poi detto questo io mi assente di fare la Carcateur da una squadra che da sempre è stata la caricatura di tutti i tempi cioè l'Inter stanno più barzellette sull'Inter che l'anzaccio manghia di Chait cioè sta pieno zippo così l'Inter fatta da Carcateur e gli è sedita da l'Inter e scusate ma è la storia di Milano che è scelta ma è stata ma è stata ma è stata in questo caso fai stare a Città e vai che è meglio ma 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 guanna ma è una scassu cazzo ogni volta chi si dà oh madonna ma io uffa allora stavo dicendo quindi stavo dicendo la Carcateur siete voi siete voi che siete la caricatura vivente quindi io non posso accettare degli sfottò o nulla da ci da ci da chi è stato da sempre un portabandir della Carcateur cioè ma è una cosa inaccettabile ma io posso sbagliare ma l'Inter è forte voi sapete che l'Inter è vero è forte l'Inter è forte talmente è forte l'Inter che va da tutto da tutto in Champions League da tutto da Champions League e magari in Europa League ma è forte ma tra poco iniziano le coppe e beh è vero hanno ottenuto le coppe e come mai e dice che è fortissimo l'Inter e come cazzo è che siete i favoriti e poi siete arrivati quarti nel girone di Champions League allora un Real Madrid ha perso una squadra serie C beh e come è stufa come mai come mai noi siamo andati avanti nella coppa che non valiamo niente siamo inferiori eccetera eccetera e voi siete usciti da tutto grandissima squadra l'unica squadra italiana a non aver passato il girone sia tra Europa League e Champions League l'unica squadra che non ha passato che ha passato da tutto in una situazione dove sta vendendo non sapere non sapere ma gloria come una fe volete cambiare non volete cambiare la propria non pagate la stupenda non cattete un cristiano la stessa la venda che non potete mangiare ma noi siamo superiori in base a cait in base a cosa noi fino ad ora avete visto il Milan che sta in testa la classifica e ha fatto non gli straordinari di più con una squadra decimata dagli infortuni da covid e da squalifiche decimata da infortuni covid e squalifiche scientifiche ma che hanno stai tutta a vita c'è parlare in seul ma che hanno stai tutta a disposizione a vita c'è parlare in seul ancora non vi capisco ma vi ti guardo e questo è il video che volevo dedicare ai miei fratelli rossoneri perché noi siamo il Milan noi siamo il Milan ve' un'anzetnode al cospetto del Milan portate rispetto e sciacquate valla la voca quando avete parlato di Milan altro che siamo stufi di sentire le vostre scusse le cose scucate contro la squadra contro 6-7 Cristian De Four sistematicamente da due mesi a questa parte 6-7 infortunati ogni volta tra infortunati covid e Cristian Madone sistematicamente gioca tu vediamo sebu vediamo sebu ragazzi è una chiamata alle armi perché qui ci stanno tutti quanti iniziando a preparare il campo così come ha fatto Gasperini Gasperini non parla d'altro so tre volte che ho sentito che di parlare e qui su Milano e qui c'è il rigore e qui c'è questi devono giocare tre partite come è successo e come mai questo è che se è Gasperini state tranquilli stiamo ad aspettare e di grazie che mancano l'altro Cristian comunque mancheranno sabato comunque mancheranno sabato ancora ok sono ancora quattro giocatori che mancheranno ancora ma vita sende ma vita sende ma vita fai la cond che ma io la vita parla e ma quando si parla di Milano la vita parla e ma so sende oppure Rizzoli il VAR lì non doveva intervenire il Rizzoli il vertice arbitra degli A il VAR non doveva intervenire come non doveva intervenire c'era un errore c'era un errore l'hai ammesso anche tu si c'era il tocco sulla gamba non ha preso il pallone ha preso la gamba però siccome non tanto si vedeva doveva andare avanti e come cazzi e ciò avete più staffe questo strumento ciò avete più staffe per dire alla gente che c'è il VAR e poi per non utilizzarlo e fare come vi pare piace per questo li avete messi no se c'è il VAR lo devi utilizzare anche anzi cambiate sta regola e cercate di utilizzarlo quando è più possibile perché bisogna fare le cose giuste bisogna fare le cose giuste che mi sono stancato di stare a sentire stronzate i social stanno pieni zeppi di stronzate sul Milan avete fatto tanta cazza nell'ultima partita nell'ultima partita abbiamo avuto un rigor che c'era a detta di tutte le moviole possibile immaginare il rigor per il Cagliari non c'era perché avete visto la maglia del Milan tirata di un metro perché è stato lui come cazzo che mi è sottile a tirarsi il giocatore addosso prima di tutto seconda cosa terza cosa nel momento in cui abbiamo avuto il rigor il resto dell'arbitraggio è stato vergognoso tutto il resto dell'arbitraggio è stato vergognoso è stata una continua ammonito romagnoli per cose che non esiste non c'era il fallo e l'hanno detto le moviole non era da munizione l'hanno detto le moviole mi squalifichi i sellmakers mi butti fuori i sellmakers in cinque minuti su due falli due falli su due è spulso in cinque minuti è un record del mondo non si è mai visto e poi dopo tutto il resto mazzate a non finire su Castiglieco Cristiano paghietta dall'ACAP good cherry alla fine fa un'entrata a martello niente le vedete queste cose come cazzo vedete il pallone vi assai sempre dall'anghe tutte le Cristiano che sono stati squalificati in continuazione avast basta rispetto per il Milan basta oh questo è tutto magari speriamo di recuperare pure Cialanoglu entro questi giorni fino alla Talant chissà che anche lui magari se non è subito che è stato che ha voglia di la squadra completa con la Talant vi sto aspettando venite venite a Sanzio che vi sto aspettando ciao a tutti